In questo video vediamo i 5 migliori alberi di Natale con luci incorporate in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo Oncom. Con questo albero di Natale artificiale potrete dedicare più tempo a festeggiare con i vostri familiari, senza preoccuparvi di curare e pulire l'albero dagli aghi secchi e caduti. Questo particolare modello combina fibra ottica e luci a LED per ottenere una bellissima e scintillante, illuminazione che crea immediatamente l'atmosfera delle festività. Ogni ramo in fibra ottica e le luci a LED creano un'illuminazione suggestiva. Il prezzo è di 72 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Costway. Questo albero di Natale artificiale presenta 796 punte di rami densi per creare una cima, dritta rinforzata e rendere l'albero ancora più realistico. Inoltre, gli aghi larghi 5 cm creano un ampio spazio per appendere ulteriori decorazioni. È dotato di 350 luci bianche calde e colorate e può essere regolato su 10 diverse modalità di illuminazione tramite un pulsante, in modo da poter cambiare la velocità e il colore delle luci. L'albero è dotato di rami incernierati facili da montare, in modo da poter assemblare rapidamente il tronco inferiore sulla base e poi montare le altre due sezioni in pochi minuti. Dopo le feste si possono ripiegare i rami e smontare l'albero in singoli tronchi a tre sezioni per riporlo. Grazie al suo design alto e sottile, l'albero di Natale può decorare il vostro spazio occupando una superficie ridotta, ideale per uffici, centri commerciali, ristoranti, scuole e case. Il prezzo è di 121 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Evergreen Classics. Le dimensioni di quest'albero sono altezza 180 cm e diametro alla base 107 cm e appare molto folto grazie ai sui 503 rami. Il montaggio è estremamente semplice e veloce. Per montare l'albero è sufficiente disporre la base a croce in acciaio verniciato, incastrarvi la prima sezione e aprirne i rami in PVC già assemblati. I rami si aprono come un ombrello, sono infatti fissati al tronco con cerniere, non occorre più quindi inserirli uno ad uno. Si ripete poi la stessa procedura per le altre due sezioni. A rendere la preparazione ancora più semplice è il fatto di essere già completo di luci, con i suoi 250 led di colore bianco caldo, a luminosità regolabile. Con giochi di luci gestibili con telecomando, basta unire i rispettivi connettori delle varie sezioni, il che evita il fastidioso problema di nascondere i fili. Terminate le feste è sufficiente staccare la spina, staccare i connettori, dividere le tre sezioni di cui è composto e metterlo nella propria scatola per riporlo fino all'anno successivo. Il prezzo qui è di 159 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Jantex. Questo albero di Natale è realizzato in PVC di alta qualità, che non sbiadisce e può restare nel suo colore realistico anno dopo anno. Decorato con numerosi led, trova il suo posto in modo ottimale in qualsiasi momento del giorno e della notte. La luce bianca calda in combinazione con aghi verdi crea un effetto luminoso da sogno. Dopo il periodo natalizio, grazie alla struttura in più parti, è possibile smontare l'albero in modo molto piccolo e risparmiare spazio per l'uso l'anno prossimo. Il prezzo è di 185 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Merck BR. Questo albero di Natale è realizzato in PVC di alta qualità, che non sbiadisce né sbiadisce e può restare nel suo colore realistico anno dopo anno. Decorato con numerosi led, trova il suo posto in modo ottimale in qualsiasi momento del giorno e della notte. La luce bianca calda in combinazione con aghi verdi crea un effetto luminoso da sogno. Dopo il periodo natalizio, grazie alla struttura in più parti, è possibile smontare l'albero in modo molto piccolo e risparmiare spazio per l'uso l'anno prossimo. Il prezzo è di 347 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.